Buonasera, buonasera. Dottore, volevo... il Viagra. Viagra. No, dottore, non tutta la scatola, una pillola. Una pillola? Eh. Ma non è possibile vendere una pillola? Questi vendono tutta la confezione. Capito, però a me mi serve una pillola di Viagra. Non è che faccio un uso stranato, diciamo. Sì, vabbè. Nonno, ti devo fare giusto un favore. Perché questa cosa si può fare, infatti non la dirà in giro a nessuno. Rimane fra noi, dottoressa, proprio a piacere personale. Eh sì, che mi dispiace, signora. Tiè, metti nella tasca, metti nella tasca. Non faccio lo scontrino, metti nella tasca. Un attimo. Se me la puoi tagliare in quattro. Eh no, no. Tu sai, Sir, c'ha il tempo da perdere. Diciamo, vado a fare un giro di farmacia, vado a rompere le scatole alla dottoressa. Già che ci stiamo, proprio a cortesia personale. Se me la puoi tagliare in quattro. Sì, ma perché vuoi essere tagliata una pillola di Viagri in quattro? Mi serve giusto per non farmi la pipì sopra le scarpe. Beh, no, no. Mi piace, avviate. Vedete la porta dove sta. Eh, dai, che non tengo niente da perdere. Mi serve l'aiutino, dottoressa. Sì, vabbè, l'aiutino. No, no, non ci sta la casa. E le cremo la mano. Di cosa? Si, non. Non ci sta l'anno. Non ci sta l'anno. Ma seconda. Tiè, vabbè. Grazie.